Primo posto già assicurato per il Ligorna di Luca Monteforte, mentre ancora in balo la qualificazione 4 di finale per il Baiardo, che oltre a pensare di vincere, spera nella vittoria della pallori varolese. Ora la testa però è al campo 25 aprile, dove già al minuto 8 Oliviero buca Prisco sul primo palo e il Baiardo è già in vantaggio. 6 minuti più tardi risponde Ligorna, prima con traversone non sfruttato da Gatto, poi con tiro dalla media lunga distanza di Ruffino, che con il destro buca le mani di Biggi e porta la partita sull'1-1. Gli ospiti non mollano e dalla sinistra arriva un passaggio per Gatto, che viene cinturato e steso nel cuore dell'area di Arigore, ma la Ganaro di Genova lascia andare. Contatto dubbio nell'area dell'Igorna con l'arbitro, che anche in questo caso lascia proseguire. In una palla due Oliviero restituisce il pallone agli avversari e sulla stessa opzione battaglia scarica un molde che colpisce il palo e poi si insacca alle spalle di Prisco. Rivediamo un gol favoloso che merita di essere visto e rivisto. Dopo il fisco d'inizio del secondo tempo il Baiardo cala al tris, sempre con Oliviero, servito solo, davanti al portiere. Da un calcio d'angolo Baiardo prende l'ascensore in appello, che però non inquadra la porta. Allo scadere Zuppi e Roli serve Oliviero, che potrebbe siglare il 4-1, ma il pallone esce a lato. Un gran Baiardo batte l'Igorna, ma non basta, perché con la vittoria della Sestese Fezzanese i Nairoverdi terminano questo minicampionato, quindi classifica.